Ciao a tutti amici, benvenuti tutti in questo video dove vi illustrerò i miei ultimi gadget per la mia nuovissima GoPro 4 Black Hero 52 HR77 Dicevo, a parte i classici gadget che vi danno, gli attacchi, metterli sulla bici, vi farò vedere quelli che ho comprato a parte molto bellini Allora, iniziamo subito dalla GoPro e possiamo già notare una particolarità Questa è la sua custodia subacqua, qui ovviamente vi danno anche questi subacquei Però, di solito io non vado mai sott'acqua e quindi di solito a casa la uso senza quella perché altrimenti il microfono si sente malissimo Allora ho comprato questa custodia che ha la particolarità di... Ha la particolarità di avere i buchi per le prese qua e anche il buchetto qui del microfono Quindi usando questa custodia qui potete registrare molto con qualità audio ottima e proteggere anche la videocamera E avere anche queste opzioni qui Che poi tra l'altro, qua possiamo vedere che è sempre aperto Sinceramente, adesso non siamo nel video giusto di critica alla GoPro Però io avrei fatto qualcosa che apri magari c'è un coso Perché io c'è uno specific copriacchietto, probabilmente l'ho tolto il primo giorno e non l'ho mai più messo Va bene Allora, una delle... una delle motive che ho preso questa con l'apertura qui a lato È perché possiamo utilizzare questo Questo è l'adattatore per attaccarci un microfono È un adattatore che da una parte c'è la mini USB e di qua c'è un jack, no? Quindi lo schiaffate qui E dopo ci potete attaccare un microfono Adesso dopo vediamo il microfono che uso C'è da dire che questo... questo cavo costa 19 dollari Nella descrizione sotto, tutti i link per... se volete comparli su Amazon, no? O vedere i prezzi Questo costa 19 dollari Però potete sicuramente trovarlo anche a 3 dollari, a 2 dollari, non di marca È solo che io... per quelli in microfono ho voluto prendere quello... il migliore Perché il microfono è una cosa veramente da stare attenti, no? Tipo, metti caso ne compri uno un po' sminchiolato E poi inizi a registrare un audio di mezz'ora e poi l'audio è tutto scrunche Allora ho detto, no, prendiamo il migliore Dovrebbe essere il migliore, non lo so, della GoPro E... e basta Quindi per questo non ho voluto risparmiare Poi, il microfono... adesso ultimamente sto usando questo qui Che è di quelli lì che si attaccano alla maglietta Molto bello Ah, ok C'è... è attivo Quindi dovete aprire qui per inserire la batteria C'è l'interruttore Che vi dovete ricordare di accenderlo Perché in un videotest mi sono dimenticato Per 20 minuti l'ho lasciato spento Quindi adesso è off, ok C'è un sacco di cavo Questo qui in realtà non l'ho pagato Me l'ha regalato il... il sito famebeat.com Se non lo conoscete nella descrizione sotto il link dove iscrivervi Serve per cercare gente che vuole far... farti fare delle review di video Te fai la review Diciamo che dovete avere molti iscritti E... abbastanza in inglese, nel pubblico inglese Però poi la gente ti manda la roba a casa Te fai la review E ti danno anche i soldi, no? Sinceramente io non ho ancora fatto nessuna review Però famebeat Riconoscendomi la mia bravissime qualità doti recitative Mi ha voluto comunque premiare con il microfono Quindi sarà un microfono che costerà sui 20 dollari Niente di che Comunque è bellino Non l'ho provato con la GoPro l'altro giorno Dovete inserire questo qua Quindi ricapitolando Questo costo 19 dollari Il microfono lo diciamo 20 Lo cerco su Amazon Per metto il link Questa Questa non me la ricordo Non è GoPro originale Anche se è identica E... non mi ricordo quanto costava Ma non costava tanto Poi per 19 dollari ho preso questo Che è un carica batteria per la GoPro Perché Soprattutto alla GoPro 4 Soprattutto se Fate i 4K Soprattutto se usate il ProToon Molte cose E anche se non usate niente di tutto questo La batteria si scarica abbastanza velocemente Ieri mattina facevo un video Cioè in macchina Dopo 20 minuti ero già a due tacche E che cavolo Fatto sta che ha la batteria media di 1 ora e 40 Neanche due ore Quindi consigliatissimo comprarvi un pacco Con due batterie extra Su Amazon io ho trovato questo qua Sto Wasabi Power Che vi danno due batterie E il caricatore per 19 dollari Adesso una di queste è GoPro originale Perché ieri era scarica Allora l'ho cambiato Poi l'ho rinvisto in carica Vi danno anche il cavetto E se lo ho staccato Quindi questo qui Io direi un must da prendere Questa la custodia così Un must Perché non sempre volete registrare con O fuori dalla custodia O con questa qui troppo Troppo chiusa E quindi questo Poi Siccome a volte Non sempre Vado a fare anche tipo Immersioni Scuba diving Diving In the Cave diving E certo Vado in delle piscine Vado giù Allora ho preso questo qui Che serve Permette alla GoPro Di galleggiare Attaccando A parte che lo potete usare Da stick Da selfie stick Però se mettiamo Lo perdete Questo fa galleggiare Tutta la GoPro Questa è della GoPro Originale Costa 20 dollari C'ha la sua Qui Manili Come si dice Cordino Anche molto bello Quindi non dovreste Perderlo Però comunque Se dovreste Perderlo Questo galleggia Su Amazon Ci sono molti modelli Molto più economici Anche da 5 euro Io l'ho visti Sono tutti gialli Sembrano tipo Dei Dei salsicciotti gialli Ma non mi sembravano belli Mi sembravano Un po' troppo semplicciotti Poi siccome avevo Una gift card Per Amazon Che Spiegavo Recentemente Non so se in Italia C'è Ma si possono fare I trade in No Quindi ho Ho mandato Ad Amazon Me l'ha comprata Per 102 dollari La La Kodak SP360 Se vi ricordate Quella Videocamerina Che faceva Video 360 Che un po' Me l'ho stufato Pagata 190 Mi hanno dato 102 dollari Quindi avevo un sacco di Bonus Quindi tutte queste cose Non le ho parate Poi avevo il compleanno di mezzo Mi hanno dato una gift card Quindi questo Ho voluto prendere Quello più costoso Che è quello della GoPro Perché mi piaceva Mi sembrava più bello Anche l'impugnatura Ergonomica Con la spugnetta E quindi ho preso questo Poi Volevo prendere Un selfie stick Per la GoPro Non tanto per andare Nel museo A far film Le foto Come fanno I turisti sminchiolati Però quando vado In kayak Alle cose Mi ci vuole Un selfie stick Che poi tra l'altro Selfie stick L'ho diventato io Se guardate i miei video Di 5 anni fa Attaccavo la GoPro Ai tubi Quelli per verniciare Facevo delle cose Bellissime Quando ancora la gente Non aveva ancora capito L'utilità del selfie stick Adesso l'hanno capito E mi hanno rubato Il brevetto Fatto sta che Ho preso questo modello qui Che adesso vi Dimostro Faccio una dimostrazione veloce Fatto sta che Volevo Come tutte le cose Prendere quello di marca Quello della GoPro Originale Ma costa 70 dollari Cioè 70 dollari Di plastica Della GoPro Mi sembrava Troppo eccessivo Allora ho guardato Imitazioni Identici Costano sui 20 20 euro Però alcuni dicono Si spacca la pialla Lastico Si spacca questo Allora per imitazione Ho deciso di prendere Questo che è tutto in alluminio E quindi questo Non si può sbaccare Allora vediamo come funziona Innanzitutto Vabbè Alluminio E poi c'è sti cosi qua Di alluminio blu Che già Si vede Che roba professionale E qua c'è E qua ha speso Almeno 350 euro Invece no Speso 30 dollari Vado a stare Che mi piace anche La colorazione blu Si può avere anche La colorazione rossa Poi mi piace Che hanno inserito Il bullone E praticamente È saldato dentro Quindi Non avete Perché in alcune volte Il bulloncino Qui potrebbe uscire In questo Classico Questo no Comunque Facciamo una prova Mettiamo la nostra Go No lo mettiamo dopo Allora Questi c'ha C'è questi qua Che si aprono Per girare C'ha come una Una ghiera dentata In modo che Potete aprirlo Però poi Quando chiudete Rivane bloccato Nella posizione Che gli date Facciamo così Un po' a caso Ok E poi ci schiaffate Vabbè La gopro sopra qui Olè 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 Ecco Questo è un selfie Poi Poi questo qua Potete che so Vi danno Una chiave In dotazione Questa è della Questa marca qui Che sembra Samsung No E smatri Smatri No Da lontano Non so Mi sembrava Il fondo Della Samsung Fatto sa Questo qua Vi danno anche Una chiavetta In omaggio Eccola Di alluminio Guarda che bella E se volete Chiuderlo E poi dopo Come dicevo Possiamo Questo girarlo così Fargli fare Delle Aspetta Questo chiudiamolo così Poi questo Lo aprite così Questo Lo risganciate così Tipo Potete usarlo Anche come Uno stand Oppure Questo Lo girate così Uno stand Sotto sopra Non lo so Poi potete Mettere La triangolo Insomma Varie Varie opzioni Per varie configurazioni Però più che altro Lo userò Come un selfie stick Perché se dovessi Ma che mi Dovesse servire Tipo Metterlo in qualche Posizione strana C'ho sempre il mio GorillaPod Qua Che questo Era abbastanza Grosso Perché Era per mettere Anche una Fotocamera Pesante Tipo una 7D Quindi Il GorillaPod Ve lo consiglio Anche perché Potete attaccarlo Tipo a un ramo Di un albero Comodissimo Quindi ve lo consiglio Sempre L'unica cosa Che dovete avere È questo attacco Qua Che serve Per attaccare Questa è la vite Che sta Su La maggior parte Dei cavalletti Quindi Anche sul GorillaPod C'è questo Quindi dovete avere Questo attacco Qui Così Così poi potete Infelare la GoPro Poi in omaggio A questo Vi danno anche La chiavetta Eccola qua Poi c'è questo Che prima Che avessi Questo qua Avevo comprato Questo Questa spugnetta Che si appiccica Dietro In modo che Ve la fa Galleggiare Dicevo che L'ho provato Una volta Funzionava L'unico problema È che Se poi Utilizzate la GoPro Su questo Ad esempio L'attacco Per la testa Anche questo gadget Se non l'avete È molto bello Da avere Comunque Se guardate Su Amazon Sono dei kit Non originali GoPro Che con 30 dollari Ti danno 300 Ti danno questo Ti danno quello Per talcala Di coppio Ti danno quello Che galleggio Ovviamente Non di marca Però Ci avevo fatto Un pensierino Ma vabbè Avendo avuto La GoPro Precedentemente Avevo già Un sacco Di accessori Quindi Ho deciso Di prenderli separati Fatto sta Che questo qui Con questo Dava fastidio Perché Praticamente Volevo fare I tuffi Con questo Alla testa E la GoPro Però poi Con questo Marchingegno Qua dietro Non riuscivo bene A chiudere Quindi Non andava tanto bene Ok Poi Altro gadget Diciamo che L'altro gadget È la ventosa Questa è molto bella Serve per attaccare Negli ultimi In alcuni video Che recentemente Ho fatto L'ho attaccata Praticamente Al parabrezza Da Così La GoPro Attaccata qui Poi nella GoPro Settate Che faccia il video Sotto sopra Quindi è molto bello Poi c'è da dire Che se prendete Delle ventose Economiche Dopo un po' Si staccano Questa Dalla GoPro È fatta bene C'è un pulsante Che riesce a spingere bene Riesce a chiudere Io sono sicuro Che questo può andare avanti Gli anni Senza staccarsi mai Sta ventosa qua Quindi è una ventosa Che sicuramente È molto bella Poi potete attaccarla Si può attaccare Anche la tavola La surf Non lo so Sinceramente Perché non ce l'ho Mi sembra che questa qui Viene venduta anche Per attaccare la tavola Poi potete anche Attaccarla alla macchina Di fuori Sul cofano Ai lati Quindi la ventosa Sicuramente è un gadget Molto molto bello E basta E niente Poi vabbè C'è questo Questo niente È un DIY Che vi dico Questo viene con la GoPro In omaggio È praticamente un pezzo Che c'era Dentro la scatola Io praticamente Siccome volevo Quello per Volevo una cosa Da tenere in mano Cioè volevo La GoPro Da tenere in mano Ma con un po' Di sicurezza Allora praticamente Avevo preso In quella precedente Questo qui Che ti danno in omaggio L'ho tagliato tutto Fatto un buco Mezzo uno di questi strap Qui Adesso volevo farvi vedere Ma non la trovo Al momento Comunque anche questo qui Che viene nella scatola Potete utilizzarlo Se dovete fare una roba Sul tavolo Quindi è utile Anche questo gadget Che vi danno in omaggio Allora vabbè Poi se volete Tenere tutti gli accessori Potete comprarvi Una di queste Pelican case Molto belline Piccole E E quindi questo è tutto Allora questo è tutto Per queste Tutti gli accessori Della GoPro E ci vediamo La prossima volta Ciao Ciao